E' nata casualmente perché io ero venuto a vedere questa azienda per acquistarla per conto dell'azienda nella quale lavoravo, poi il giorno che ho provato la grande delusione perché il mio progetto è stato bocciato, non perché era un progetto non va, ma perché era distante dalla società, credevo, ero deluso e invece da lì è iniziata la mia fortuna perché dopo il titolare dell'azienda mi ha detto Buzzi tu l'hai comperata, la sua domina di rinunzione, tientela e così sono partito. Ho avuto fortuna, ho avuto l'appoggio anche di personaggi importanti perché personaggi che avevo conosciuto in Edison e che avevo conosciuto nell'altra ditta. Mi hanno aiutato soprattutto finanziariamente fornendomi il materiale a uno sconosciuto. Pian pianino abbiamo creato questo gruppo, è un gruppo che io ricredo abbastanza importante, è un gruppo che io ho puntato di organizzarlo al meglio. A volte caso e fortuna giocano un ruolo primario anche per realizzare grandi imprese. Non lo nasconde Luigi Buzzi, presidente del gruppo Luce, fino a pochi giorni dal quarantesimo anniversario dalla fondazione della sua prima opera imprenditoriale che sorse il 16 novembre 1973 sotto il nome di Trafilix. Un'occasione che non volle perdere, la vicinanza concreta di amici ed ex colleghi gli consentirono di dare il via ad un'attività che oggi si annovera come una società attiva, internazionalizzata e innovativa. Ma per la famiglia Buzzi Trafilix è significato anche un cambiamento profondo e un trasferimento, quello dalla Brianza ad Esine in Valle Camonica. Prima di tutto sono venuto qua in Valle Camonica non conoscendola prima e ho avuto un impatto oltremodo buono. Io ho trovato nei pochi operai, perché ho iniziato con tre operai e un capo, il capo che poi ho fatto diventare socio anche nella società, effettivamente lavoravano col cuore, oltre che con le mani lavoravano col cuore. Quindi mi sono trovato bene, ho trovato un ambiente buono e tant'è vero che ormai vivo qua, è un ambiente bene che vivo qua. Mi spiace per la mia Brianza ma l'ho tradita. Qua c'era un piccolo cappannoncino, c'erano tutti i campi di grano, quindi quando lui lavorava e mia sorella venivamo a giocare in mezzo alla natura. Tra l'altro lui aveva un carissimo amico che mi portava a funghi, quindi mi è anche venuta la passione per andare a funghi. I ricordi sicuramente sono di due persone, mio papà e mia mamma, che hanno dedicato tutta la vita al lavoro, tant'è che poi la loro lontananza dal 1973 all'82, perché noi fino al 1982 siamo rimasti a Milano e mio padre veniva qua a lavorare durante tutta la settimana. È stato un grande sacrificio sia per lui che per mia mamma, ma sicuramente il fatto di non averlo avuto durante gli anni di crescita non è stata una cosa facile. Però devo dire che quando nell'82 poi hanno fatto questa scelta di trasferirsi qui, io ne sono stato molto contento perché sostanzialmente mi sento quasi, anzi vorrei dire oggi sono più Camuno che sicuramente Brianzolo. Mi piace molto lo spirito delle persone che vivono qui e sicuramente vi si addice più un ambiente montano rispetto a un ambiente di pianura e poi pian pianino la passione per l'azienda è venuta fuori. Sicuramente non era facile perché appena è iniziato il papà, sentire parlare di acciaio per un bambino di 4 anni che aveva voglia di giocare non è così semplice, tant'è che mio figlio che ne ha 9, tante volte parlando di acciaio fa finta di interessarsi, ma in realtà è più interessato alla bicicletta o agli amici o altro. Luigi Buzzi e il figlio Giorgio descrivono quali sono state le direttrici lungo le quali hanno sviluppato la loro azienda. Qualità, servizio, specializzazione e consulenza tecnica sono le parole d'ordine. Noi abbiamo organizzato la produzione specializzando gli stabilimenti, spezzettandolo su più stabilimenti ma specializzandolo su ogni tipo di lavorazione, siamo sugli acciai speciali e poi ci siamo espansi a Praga con un stabilimento, questo stabilimento è stato creato in previsione che si apra e speriamo presto il mercato dell'estero. Noi puntiamo molto sul mercato russo dove i nostri prodotti dovrebbero trovare facile collaborazione. Abbiamo aperto un altro magazzino in Germania e abbiamo una collaborazione in Inghilterra e una in Francia, cerchiamo di espandersi un pochettino. Prima di tutto la qualità, abbiamo cercato di produrre sempre il prodotto qualitativamente più alto, il servizio perché noi riusciamo a servire i clienti con parecchio materiale dal pronto. Tenete in considerazione che nonostante il momento di crisi il gruppo negli ultimi anni ha sempre investito molto in tecnologia e soprattutto in personale. Oggi noi abbiamo una struttura manageriale molto forte, pensiamo di andare all'estero con questa struttura a fare impresa e soprattutto a dare consulenza tecnica. Oggi noi non vendiamo un prodotto, l'acciaio singolo, ma vendiamo consulenza tecnica. Quindi la nostra volontà è quella di andare sempre su prodotti più specifici e riuscire a ottenere dei grandissimi risultati in paesi anche in via di sviluppo. Un'azienda con una storia così lunga alle spalle incontra ad un certo punto della sua strada un'inevitabile decisione. Occorre infatti affrontare con forza e lungimiranza il tema del passaggio generazionale, un traguardo che come spiega Giorgio Buzzi è frutto di un intenso lavoro quotidiano. Un figlio deve cercare di ritagliarsi degli spazi all'interno dell'azienda in modo quasi prepotente, nel senso che sei sempre sotto esame. Quindi gli aspetti e le memorie vanno a quei momenti e anche a momenti di forte tensione che ci sono stati nel corso degli anni. Però c'è anche da dire che oggi con grande soddisfazione uno pensa a quello che ha fatto lui in 40 anni per portare l'azienda a determinati livelli e la grande soddisfazione sarà da qui in avanti riuscire a fare qualcosa per mantenere non solo l'azienda ai livelli a cui è arrivata, ma soprattutto a portarla a livelli internazionali nuovi con lo spirito di chi ha oggi 44 anni come me. L'occasione del quarantesimo è anche ufficializzare, ormai quasi tutti lo sanno, il passaggio generazionale a mio figlio. Con il quarantesimo adesso il volante lo prende le mani a lui e guida la cosa. Io mi riducco a fare la ruota di scorta, sempre disponibile, una ruota di scorta. Quella che si terrà presso la sede di Trafilix a Esine il prossimo sabato per la famiglia Buzzi e tutto il suo staff dovrà rappresentare una festa che sì ne ricordi i 40 anni di vita ma anche un tributo all'intera comunità camuna che come descritto l'ha così calorosamente accolta tra le sue montagne. Un pomeriggio però che svelerà numerose sorprese come descritto dal vicepresidente del gruppo Luce, fin Giorgio Buzzi. 16 novembre 2013, 16 novembre 1973, 40 anni. Ci sembrava doveroso festeggiarli ma in maniera un pochettino diversa. Abbiamo reso partecipi tutti i dipendenti, le famiglie dei dipendenti, amici, fornitori. Chiunque anche voi, logicamente, di Siderweb siete invitati, voglia venire a visitare una realtà industriale come la nostra, sabato le porte sono aperte. Ma come farlo? Non in maniera canonica facendo vedere la produzione aperta ma facendo cultura, spettacolo e industria. Siamo sempre stati molto attenti a quello che era l'arte in varie forme e quindi ci sembrava doveroso fare un evento particolare. Quindi sabato alle ore 15.30 verranno aperte le porte dell'azienda, ci saranno spettacoli di tipo pittorico, grafico, fotografico, artistico e addirittura musicale che faranno sì che la giornata passerà per tutti in maniera molto lieta e soprattutto interesserà anche chi magari dell'acciaio non è così affascinato perché noi l'acciaio, lo diciamo anche col nostro payoff Loving Steel, forse siamo anche un po' innamorati. Magari qualcun altro non lo è così. Grazie a tutti.